Il corso di contingenze politiche si è tornato a discutere o meglio a litigare sulla prescrizione e lei, insomma, Di Maio ieri ha detto dal 1 gennaio va in vigore la norma, lei pensa che ci siano dei rischi, come la vede? Se il governo non mi sembra molto saldo, insomma da quello che sento e so non c'è una coesione, nella maggioranza, prescrizione e giustizia è uno di questi temi, io sono molto preoccupato perché credo che invece si debba affrontare e decidere una volta per tutte, MES, un altro tema che incide anche su quello di cui stiamo parlando, la norma salva stati, le risorse ai territori, la giustizia sociale e la perequazione, la manovra di bilancio anche sta facendo acuire delle differenziazioni, le elezioni regionali, bisogna capire se riescono a trovare un punto di contatto, quindi mi sembra una situazione molto traballante, quindi queste certezze sul 1 gennaio, poi queste cambiano anche opinione molto rapidamente, non vedo un quadro molto saldo, devo dire, quindi vediamo come va a finire. Per ora speriamo che venga approvata una legge di bilancio che consenta di farci respirare un po' a noi comuni e anche alla nostra città perché se no è veramente dura e lo si vede anche le sofferenze quotidiane che abbiamo di ricaduto in città derivano proprio anche dal fatto che non ci sono le risorse adeguate che ci consentono di fare quel salto di qualità.